andiamo avanti andiamo avanti con il nostro nexomone andiamo avanti andiamo avanti con il nostro nexomone 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 e quindi abbiamo avanti con il nostro nexomone e quindi abbiamo avanti con il nostro nexomone andiamo avanti con il nostro nexomone andiamo avanti con il nostro nexomone e quindi abbiamo avanti con il nostro nexomone e quindi abbiamo avanti con il nostro nexomone Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Eh ma no eh, però sono troppi a un certo punto e poi non puoi neanche fuggire Ci sono troppi eh, ci devono andare a regolare un po' Oh 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 Lascio lì con la gemma se no Ah E allora dobbiamo trovare quello che parla italiano Sono inutili questi scontrini qui Cioè servono solo per catturare Ma se non si fa niente di fuggire con questi Adesso ne troverò altri 10 prima di arrivare fin là ancora Oh Mannaggia buba Oh 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 Tu parli? No Tu parli Tu? Figuriamoci Lei signora? No Lei? Che le dice? La lampo italiana No Lei? 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 Questo figurati Questo Ciao Questo 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 Questo? Ah! Abbiamo trovato un fantasma che parla italiano! Eh, però... A noi serve qualcuno che parli italiano qui? No, dai, dove lo trovo? Eccolo! No, ero uguale a uno che avevo battuto lassù Eh, ma bu... Mannaggia, bubba! Eccolo qua Eh? Eh? Ah, dobbiamo tornare indietro Non ci siamo passati Ma dai, uno che parla italiano Mi scusi Mi scusi Perché stiamo parlando qua? Stasera ragazzi Prima della live, o forse live Perché no? Vediamo un bel film di Scooby-Doo Mi scegliamo qualcuno E lo vediamo E' venuta voglia di vedere Scooby-Doo oggi Scooby 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 Che si è italiano questo? E' l'ultimo, eh? L'ultimo 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 E' un'arancia L'ultimo L'ultimo di qua puoi? non è venuto qua dai ma che è? una cazza il nuovo che è? questo schifo è stato bello fino adesso no facciamo l'est è stato bello fino adesso e poi ah verso est ok e di là eh si vabbè ma ricominciano i combattimenti a muzzo di qua eh ma ricominciano i combattimenti a muzzo eh eh non 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 cosa no da ok quindi dobbiamo tenerlo sicuro le nex sono ostili scompare però perchè scompare? ok e poi ci sono gli altri che li abbiamo visti prima mi sembra che ci sono andati sulla stanza ok 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 Grazie a tutti. E questi sono i generatori, giusto? Speriamo che ci faccia prendere questo, oh! E questo è il giusto, per fare c'è dire, non c'è Oh, è il giusto vol. E questo è il giusto, non c'è il giusto, non c'è il giusto? ma forse la dovevo premerà? nell'alti, vabbè la cosa è che la dovevo fare l'altra? Mh... Mh... ... ... Come faccio? Ah, devo premerla, allora Anche nell'altro non l'ho fatto Scendiamo Troppi rompi palle No, eh, così non è giocabile Dov'è il more generatore? Eccolo lì Poi ci manca l'ultimo Lassuno No, Lassuno è forse un sbagliato frustrato è forse un sbagliato e E' un decobato. Grazie a tutti. Mamma mia. Oh, grande. Grazie. 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Non è vero. Sì, non è vero. 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 è vero. ciao. è vero. è vero. non è vero. gioco è vero. è vero. non è vero. è vero. è vero. non è vero. 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 non è vero. è vero. è vero. è vero. proviamo. è vero. è vero. è. è vero. è vero. è vero. odio. è vero. è vero. è vero. è vero.